Il libro A cura mia e di Villani Lubelli mi sembra che offra la possibilità di analizzare in una prospettiva multidisciplinare questa nuova Germania che esce dai primi 30 anni della sua eronificazione, analizzando da un punto di vista socio-economico, culturale, dei partiti e costituzionale, questo paese che si continua a chiamare la locomotiva d'Europa ma di cui poco e sempre male si conosce. Per ultimo anche un breve ritratto a tutto tondo offertoci dal corrispondente della più prestigiosa testata giornalistica tedesca in cui si analizza il lungo cancellierato di Angela Merkel.